Stasera mi mangio, Sandro Caneci, stasera mi mangio fagioli freddi, tonno, origano e cipolla perché la mia adorata moglie mi aveva preso gli asparagi per fare uova e asparagi ma poi è arrivato un mucchio di gente e lei non era organizzata per un cazzo a fare il servizio e mi ha messo sotto stress e cominciato a rompere il cazzo gli ho detto guarda che non so se lo sai ma chi ha problemi di cuore se gli spacchi il cazzo è facile che gli fai fare un attacco di cuore o cose del genere perciò cerchiamo di essere un po' moderati anche perché ha scoperto che io sono malato da ieri perché chattando con un suo amico gli ha spiegato che la mia patologia è più grave di quello che crede in ogni caso ha finito il discorso dicendomi che se ho un attacco di cuore mi lascia morire bene, con questo abbiamo finito anche oggi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao